Bene, caro Carlo, ce l'hai fatta, ti ringrazio per avermi dato questa opportunità di nominare due amici. Il primo è Massimo Cavasin, che adesso mentre passavo con Secchio rideva, quindi mi do l'opportunità di far ridere anche a me. E l'altro è Maurizio Fermeglia, al quale do l'opportunità di essere il primo rettore al mondo a fare anche lui la sua parte nell'ice bucket challenge donando quello che ognuno si sente di donare alla lotta contro la S.L.A. nel sito www.aisla.it